Eccoci di nuovo insieme, 026884230 Radio Lombardia e Lombardia Channel per chi ci segue in tv sulla digitale terrestre 615. Abbiamo un ascoltatore, gli diamo subito la parola e poi torniamo qui dai nostri ospiti che sono Tiziano Mariani, imprenditore, Simon Paolo Bongiardino, vicepresidente Unione Conf Commercio. Francesco buonasera. Buonasera, io volevo riallacciarmi alla trasmissione vostra di giovedì scorso dove avete annunciato la manifestazione dei lavoratori del settore edilizio. Assolutamente, ne parleremo anche oggi, prego. Esatto, ieri a Milano 14.000 posti di lavoro persi nel 2008-2013. Intanto volevo chiarire o chiedere meglio una cosa, chi c'era il governo in questi quattro anni, 2008-2012? I soliti Berlusconi, Frumigoni, Maroni, Penati. C'è tutta quella tritta lì che in qualche modo mi pare che in questi mesi siano nelle aule di tribunale, giusto? Poi, però, il signor Berlusconi nel 2008 ci disse, non vi preoccupate, vi darò un milione di posti di lavoro. Risultato? Il milione di posti di lavoro non è stato dato, anzi c'è stato un milione di perdita di posti di lavoro. Se la matematica non è un'opinione, il saldo è meno di due milioni. Adesso ci ha detto che da lunedì, da domedì, da lunedì alla prossima settimana, problemi non ci saranno più. Lui è il governo, 4 milioni di posti di lavoro nuovi, quindi saremo tutti, anzi dovremo andare a prendere mano d'opera perché 4 milioni di disoccupati forse non li abbiamo, forse li abbiamo, non saranno più tali. Forse è ora di smetterla, chiedo il parere dei suoi ospiti. Io la ringrazio Francesco per aver richiamato, diamo subito la parola ovviamente ai miei ospiti, per aver richiamato quella importantissima giornata che ieri ha visto davvero tante persone coinvolte in quella che è stata definita la giornata della collera. Noi avremo dei collegamenti telefonici prima della chiusura della trasmissione e daremo voce proprio perché non doveva essere solo un annuncio ma vogliamo continuare a dare voce a questo settore, a questo indotto che è così fortemente penalizzato. Quindi ne parleremo di questo prima della chiusura, mentre invece diamo subito la parola a Mariani, a Bongiardino rispetto a quello che Francesco, parta pure Bongiardino lei e poi sentiamo anche Mariani rispetto a quello che sottolineava Francesco. Sì, allora io parto dai fatti che è questa giornata della collera che è stata organizzata in maniera, voglio dire, trasversale da parte di operatori del settore dell'edilizia. Quindi mi riferisco sia al mondo industriale che a quello commerciale, quindi hanno partecipato nostre associazioni con commercio insieme ad Assinpredil, ad associazioni del mondo dell'industria. È un dato di fatto che l'edilizia è inchiodata, questo è figlio di una situazione economica generale che conosciamo, abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. In questi ultimi giorni, oggi ancora, sono passati messaggi che dicono che il calo dei prezzi di vendita degli appartamenti è sempre continuo, con pochissime eccezioni, in un mercato che implode, che gli affitti diminuiscono, per cui c'è anche la concorrenza degli affittanze rispetto agli acquisti. È una situazione certamente che penalizza questi settori. Io, per quanto riguarda la lettura in chiave politica, io credo che dal 2007 e poi molto di più dal 2009 fino a quest'anno sono successe tante tali cose, non solo in Italia, ma nel mondo, non solo in Europa, ma nel mondo, che hanno determinato un calo nell'economia e quindi di conseguenza nel potere d'acquisto della gente, nel lavoro, nelle prospettive di lavoro, nei giovani che sono disoccupati. A me non piace ragionare in termini di etichettature, questa è colpa di questo, questo è colpa di quello. È colpa di una difficoltà che ha coinvolto tutto il mondo, a partire, diciamo così, da un'economia leggera che era nata in America, così mettiamo le cose al loro posto, e che poi è molto alimentata dall'economia della carta, che ha nell'Inghilterra un punto di grande resistenza rispetto all'economia reale. Noi abbiamo bisogno di fare economia reale, le nostre imprese sono manifatturiere, sono commerciali, sono per lo più non delocalizzabili, noi abbiamo bisogno di economia reale e non di economia di carta. L'edilizia è l'esempio più macroscopico di economia reale, bisogna ricominciare a costruire, ma per far ciò è necessario che ci sia la fiducia, che ci siano i fondamentali che si rimettano in movimento, in sesto, ma non solo penalizzando, anche incentivando, perché è facile fare le cure di cavallo e poi il malato muore. bisogna da una parte curare e dall'altra invece anche sostenere e sviluppare. Quasi 2300 imprese, questi sono i dati che ricordava il telespettatore Mariani, sono coinvolte 20.000 famiglie in tutto questo indotto. Quello che ha appena detto Buongiardino è la realtà, etichettare si fa in fretta, è diventato un po' anche lo slogan degli ultimi mesi o dell'ultimo anno, dell'ultimo 12-15 mesi. Ma si va avanti, le campagne elettorali. Sì, ma le campagne, potrei dire che le campagne elettorali ormai in questa Italia ne abbiamo ogni anno o due anni, o le amministrative, o le regionali, o l'anticipazione di qualcosa, o le politiche anticipate, ne avremo un altro l'anno prossimo, che saranno le europee. E allora cosa facciamo? Fermiamo tutto? Cioè diciamo fermi tutto, la magistratura non si può muovere, l'industria sta peggiorando tutti i giorni, cioè continuiamo a non affrontare veramente il problema reale che esiste. Cioè forse la classe politica, ecco l'unica cosa che possiamo dire, la classe politica tutta, non sto dicendo una classe politica che ha governato e che non ha governato, tutta la classe politica non ha pensato veramente a un piano industriale. E qui allora, non essendoci un piano industriale, che effettivamente io non lo vedo, non l'ho ancora visto, sta creando quello che in questi anni sta uscendo. Cioè noi abbiamo pensato magari, non come i francesi, a dire tu la tua globalizzazione, capisco la globalizzazione, ma la tua localizzazione nei paesi Romania, paesi perché la malodopera costa meno, la Cina, l'India, eccetera, eccetera, e far importare poi il prodotto cinese, lo leggevo proprio ieri, mi sembra che il discorso del carnevale sia tutto manifatturiera cinese, 17 milioni di euro, che è tutta roba cinese. Io non ho niente contro la Cina, ci mancherebbe altro. Però io ritengo che il Made in Italia deve ripartire, insomma. Non possiamo, abbiamo delle eccellenze, la manifatturiera in Lombardia sta scomparendo e questo non credo che sia una cosa buona. Perché? Perché non c'è questo piano che il governo, che la politica deve fare. Cioè d'accordo pensare globalmente, ma secondo me bisogna agire però anche localmente, non solamente pensare globalmente e non agire i problemi locali quali sono, vediamo di risolverli, perché se no ci troveremo fra poco ancora più disoccupati, ci troveremo una politica ingovernabile, ci troveremo tanta gente incazzata proprio. Certo, ecco la notizia che ci richiamava Mariani, la Cina resta il leader indiscusso delle importazioni di oggetti giochi e scherzi per questo carnevale, collocandosi al primo posto della classifica dei paesi stranieri da cui l'Italia acquista articoli per questa festa. È un importo e qui comincia a dare cifre che supera i 16 milioni di euro. Abbiamo un rappresentante del commercio, che non è una cosa da sottovalutare. Certo, infatti per questo la ritorno. Bisognerebbe invece proprio... Made in Italy, qui è uno spunto che ci ha dato Mariani, ma è sempre così, eh? Certo, ma vedi, il recupero di un'immagine produttiva nazionale, che per esempio nel settore dell'abbigliamento è fondamentale, e sto pensando anche ai territori lombardi, che sono storicamente l'eccellenza nella produzione proprio. Tutta la filiera poi, dal filo al prodotto finito. Si chiede purtroppo un prerequisito, che ci sia un'economia e una capacità di spesa della gente in grado di assorbire. Quando tu hai un... che ci sia un'economia che ci sia un'economia che ci sia un'economia,